E che fate se in casa praticamente avete solo patate? E mi direte, esco a fare la spesa? E invece no! Perché sta ricetta si fa davvero praticamente solo con le patate Le fate bollire per pochissimi minuti, poi le sbucciate e le grattugiate Aggiungete un pochino di sale e il burro Eh sì, il burro Non lo uso spesso, ma ogni tanto ci vuole Sbattete tutto in una teglia con carta forno e livellate Parmigiano, schiacciatelo un pochino così viene più buono Io ho aggiunto ancora qualche fiocchetto di burro, ma vi assicuro che non è neanche indispensabile E dopo 30 minuti in forno, vi viene fuori questa schiacciatina buonissima Potete tagliarla con la rotella della pizza, ma anche con le forbici È croccantissima Si sente, no? E poi è buonissima Quindi anche oggi ha l'accetta grembiule, provatela anche voi Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! Ma per fare sta ricetta praticamente ho dovuto solo aprire il frigo Avevo una confezione gigante di stracchino che stava per andare a male E praticamente basta E le patate Perché le patate in casa mia ci sono sempre Quindi ho tirato fuori tutte le mie dotte artistiche E facendo una specie di tetris Ho preparato questa teglia di patate e stracchino Anche se non ero particolarmente convinta di cosa sarebbe venuto fuori Ma come diceva mio nonno Se un ingrediente è buono e l'altro anche Se li metti insieme viene fuori una roba buona Che poi non è sempre così, ma in questo caso sì Comunque ricapitolando Tagliate le patate a fettine sottilissime Mettete in una ciotola stracchino parmigiano e latte Strato di patate, strato di crema Strato di nuovo di patate Parmigiano e via in forno Viene fuori una crosticina buonissima Sono facilissime, velocissime Le patate manco dovete cuocerle prima E ovviamente come dico sempre Anche oggi Allasciate il grambiole e provatela anche voi Avete mai pensato a usare lo stampo del ciambellone così? Questa è in assoluto la mia ricetta preferita con le patate Io la besciamella la faccio Ma se volete comprarla non mi offendo E visto che so già che me lo chiederete Io la buccia la lascio Però se volete potete toglierla Poi il procedimento è davvero semplicissimo Piazzate tutte le patate nella teglia Besciamella, parmigiano e in forno Viene una crosticina davvero da urlo Sono troppo buone le patate al rosto Quindi anche se non sono la scoperta del secolo Allasciate il grambiole e provatela anche voi Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! So solo che ho voglia di funghi Ma stavolta li uso surgelati Mi piacerebbe tanto dirvi che l'anno scorso sono andata per funghi Ed erano troppi quindi li ho surgelati io Ma la verità è che se anche ci fossi andata Non li avrei visti Nemmeno se avessero avuto una freccia luminosa sopra Quindi sì, lo ammetto, li ho comprati Ma giuro la besciamella l'ho fatta io Ma tornando alla ricetta Sbucciate le patate e tagliate le fittine sottilissime con la mandolina Fate la besciamella e mescolatele ai funghi già cotti Poi alternate patate e besciamella con i funghi Io le ho messe una vicina all'altra Così posso dire a mia mamma che l'artistico mi è servito Ma se volete potete metterle anche più disordinate Immancabile passaggio in forno per far la crosticina e per far cuocere le patate Ne ho fatto una teglia gigante così forse mi levo la voglia di funghi Ma se voi per caso andate nel bosco a cercarli e volete regalarmene un po' Comunque è buonissimo, facilissimo, cremosissimo E anche oggi, come dico sempre, all'acciata e grembiole provatela anche voi Vi avanzano le patate bollite e non sapete mai che cosa farci? Con questa ricetta vengono buonissime Io non le avevo avanzate e quindi le ho cotte apposta Comunque quando saranno cotte le sbucciate le mettete in un'acciata Le schiacciate con la forchetta e tritate il prezzemolo In una padella fate scaldare l'olio e l'aglio Poi ci buttate le patate e le fate cuocere a fiamma super alta Quando avranno iniziato a fare la crosticina ci aggiungete anche il prezzemolo E per fare sta ricetta non ci vuole certo una laurea in ingegneria nucleare Ma sono buonissime e anche oggi all'acciata e grembiole provatela anche voi